Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale Questo è Joe Sam che vi parla Questo è il Joe Sam che vedete Ok, non ho visto qualcosa a muoversi Niente, questo è il mio primo vlog E in questo vlog volevo Volevo per prima di cosa farmi No, davvero? Passa qualcosa? Ok, niente Dicevo, in questo primo vlog volevo mostrarmi Non date retta al mio brufolo Che è benissimo, no, basta Comunque volevo mostrarmi e poi perché Per ringraziare i 500 iscritti Siamo arrivati a 500 iscritti Ringrazio tutti gli iscritti Ringrazio tutte le persone che mi seguono tutt'oggi Mettono mi piace e condividono Eh no, condividono E commentano Niente, oltre a questo ringraziamento speciale Ho fatto questo video anche per parlarvi Un po' dell'andamento del mio canale Perché parlo dell'andamento del canale? Perché come tutti potete notare Il mio canale sta avendo un po' di degrato Perché degrato? Perché a parte che i video Non li sto caricando con una frequenza Che avevo una volta Anche se una volta non è che li caricavo così Così tanti Ma comunque Adesso neanche quella frequenza Più riesco a caricarli E questo perché? Perché prima di tutto per un motivo di tempo Dove lo dico in tutti i miei video Tra l'altro Però a parte motivi di tempo Anche perché Mi piace Vorrei cambiare un po' stile canale Stile canale in che senso? Nel senso che Cambiare un po' le serie Cambiare un po' il mio modo di fare Questo perché? Perché A parte che siamo arrivati ai 500 iscritti E quindi vorrei fare qualcosa Che intrattini di più Che piace di più alla gente Perché comunque è una responsabilità Farvi divertire Intrattenervi Eccetera Questo non è che devo fare video comici O altro Ma comunque devo fare qualcosa A parte di più Di caricare In che senso di più? Caricare più video Perché i video che sto caricando sono pochi Quindi così allontano molto la gente E si scoccia A parte questo Ma fare qualche commento un po' più interessante Quindi anche alcune volte Sì fare i vlog Parlare di qualcosa Fare delle serie di minecraft Però un po' più progettate Un po' più carine Qualcosa del genere Dove intrattenere un po' più la gente E niente Perché questo Perché ho deciso di fare Questo cambiamento canale? Già ve l'ho detto Prima di tutto Perché comunque 500 iscritti È una bella responsabilità E voglio che Intrattenervi di più E voglio divertirvi di più Ma a parte questo Anche perché Anche perché noto che Nel mio canale ormai Ci sono sempre di meno Le visualizzazioni Sempre di meno Mi piace Diciamo che sono sempre gli stessi Perché c'è la gente che mi seguo ancora E che ringrazio Un doppio Un doppio ringraziamento E a parte questo Anche perché Anche perché Le descrizioni dal canale E le poche visualizzazioni Eccetera Con questo non mi abbatto Con questo non dico Che cambierò Come personaggio Con questo Non Non dico che Devo cambiare Le mie serie Non devo cambiare Totalmente Il mio stile E quindi Essere sempre L'ho già sempre Di una volta Però Vorrei cercare di fare qualcosa Può darsi anche che Il prossimo video Sarà normale Quasi sicuramente E quindi Questo che sto dicendo È una cazzata No vabbè A parte gli scherzi Comunque Vorrei Non è detto Che lo devo fare Nei prossimi video Quindi non vi aspettate Già un cambiamento Comunque A parte questo Adesso vi saluto Credo che sia durato Abbastanza Un vlog Tanto il mio primo vlog Spero che il video Vi sia piaciuto Non la mia faccia Perché Non si può Vedere Cioè È orribile No scherzo No niente Quindi Vi ringrazio ancora Vi ringrazio Facebook Mi sta chiamando E quindi Che dire Al prossimo vlog Al prossimo video Un bacione Ciao